Jack G presenta i miei racconti. Nicolás è la montagna dei sogni. C'era una volta in un piccolo villaggio circondato da maestose montagne, un giovane di nome Nicolás. La sua vita era stata segnata da sfide e difficoltà, ma dentro di lui ardeva una fiamma di determinazione e speranza. Fin da bambino, Nicolás aveva sognato di scalare la vetta più alta della montagna che dominava l'orizzonte del suo villaggio. Quella montagna era imponente e temuta da molti, ma Nicolás vedeva in essa una sfida da accettare piuttosto che un ostacolo insormontabile. Il villaggio era popolato da persone che vivevano una vita tranquilla e confortevole, ma Nicolás sentiva che la sua vita era destinata a qualcosa di più grande. I suoi amici e familiari lo guardavano con occhi pieni di preoccupazione, chiedendosi perché volesse affrontare una sfida così ardua. Ma Nicolás sapeva che la chiave per realizzare i suoi sogni era trovare il coraggio di affrontare l'ignoto. Un giorno, Nicolás decise che era giunto il momento di iniziare la sua avventura. Si preparò con cura, radunando l'equipaggiamento necessario e allenandosi fisicamente e mentalmente. La notizia della sua impresa si diffuse rapidamente nel villaggio, suscitando una miscela di ammirazione e preoccupazione. La salita verso la cima della montagna non fu facile. Nicolás incontrò terreni difficili, condizioni meteorologiche avverse e momenti in cui la stanchezza minacciava di farlo desistere. Tuttavia, ogni volta che guardava verso l'alto e vedeva la cima avvicinarsi, sentiva una scarica di energia che lo spingeva a continuare. Durante il viaggio, Nicolás incontrò altri scalatori, alcuni dei quali si erano persi nella loro strada. Condivise con loro la sua determinazione e il suo spirito intraprendente, incoraggiandoli a non arrendersi mai. Insieme, formarono un legame indissolubile, basato sulla condivisione di obiettivi comuni. Dopo giorni di fatica e sacrificio, Nicolás raggiunse finalmente la vetta della montagna. Uno spettacolo mozzafiato si aprì di fronte a lui, con un panorama che si estendeva fino all'orizzonte. Nicolás si sentì pervaso da una sensazione di trionfo e gratitudine. Capì che la chiave per superare qualsiasi sfida era la volontà di perseguire i propri sogni con determinazione e coraggio. Il ritorno al villaggio fu accolto con festeggiamenti e celebrazioni. La storia di Nicolás ispirò gli abitanti, dimostrando loro che anche le sfide apparentemente impossibili potevano essere superate con la giusta mentalità. La lezione della storia di Nicolás è chiara. Ogni sfida è un'opportunità travestita. Con determinazione, coraggio e la volontà di perseguire i propri sogni, si può raggiungere la vetta di qualsiasi montagna, superare qualsiasi ostacolo e realizzare le proprie aspirazioni più audaci. Grazie a tutti voi, cari amici di I miei racconti, per il vostro sostegno e affetto. Continuate a seguirci e a sognare, perché il viaggio continua. Con gratitudine, Jack G.